Il Vesuvio continua a bruciare, i turisti sono in fuga, cosa fare? È una tragedia, una tragedia insopportabile, un disastro ambientale. Lo avevamo detto i giorni scorsi, abbiamo sollevato la questione, so che il prefetto si è mosso, anche stamattina, ho scritto un'altra volta, l'ho anche sottolineato più volte pubblicamente, però vorrei dire ancora una volta con nettezza e determinazione che questo Paese continua a sovvertire le priorità, almeno rispetto a quelli che sono interessi e bisogni della gente. Un Paese che investe 5 miliardi e mezzo per salvare le banche venete e 64 milioni di euro al giorno per spese militari e spese enormi per forniture anche di mezzi militari particolarmente offensivi, io mi chiedo se senza voler dire che le spese militari non servono, servono, senza voler dire che non si debba dialogare con le banche, le banche servono, ma vogliamo cominciare a pensare che le priorità di questo Paese sono la difesa del territorio, non è pensabile che ancora una volta non si faccia nulla di significativo per prevenire l'emergenza siccità per gli incendi, guardate le flotte aeree della protezione civile come sono state ridotte, è possibile che un Paese non investa in prevenzione sugli incendi in modo forte, che non abbia le risorse per comprare mezzi particolarmente risolutivi, perché come l'incendio sul Vesuvio lo puoi spegnere solamente con un'azione immediata e poi con la flotta aerea, l'azione immediata se non arriva perché non si firma la convenzione tra i vigili del fuoco e la regione Campania. Poi io sono stato sempre critico della soppressione del corpo forestale dello Stato, che ha fatto un lavoro immane nei secoli, per decenni, quindi mi sembra che anche qui c'è un arretramento totale del Paese rispetto ai beni comuni. Voglio dire con orgoglio che la nostra città è l'unica che ha mantenuto l'acqua pubblica, che c'entra anche con l'emergenza siccità, perché non è solo un fatto ideologico, le misure che noi metteremo in campo sull'acqua saranno decise per mano pubblica e non perché ci sia la volontà di qualche multinazionale o di qualche potentato economico finanziario che va a braccetto con la politica. Quindi quello che sta accadendo sul Vesuvio, ma non solo, è ancora una volta frutto di scelte politiche scellerate, cioè quello di non puntare sulla difesa del territorio, della natura, dei beni comuni, sui bisogni dei cittadini e sui diritti. Quindi questo è molto grave. Io mi auguro che prima o poi il Paese scelga attraverso azioni politiche di sovvertire le priorità. Le priorità non sono i salvataggi delle banche per colpa degli amministratori o spendere tutti questi soldi in armi, ma le priorità sono esattamente la difesa della nostra vita quotidiana. Ecco perché quella ferita del Vesuvio è una ferita che colpisce tutti noi, perché sta bruciando la nostra montagna, stanno bruciando boschi. Tutto questo si poteva prevenire e soprattutto si poteva intervenire, perché sono cinque giorni, quattro giorni che ci sono incendi sul Vesuvio particolarmente devastanti.